Musica Hola a tutti ragazzi con l'IncisiPunta e ci troviamo in un nuovissimo video ragazzi Ebbene si della Warcraft Si lo so che martedì scorso ho saltato un episodio Mia colpa perchè non ho avuto tempo di registrarlo Oggi finalmente iniziamo con questo benedettissimo castello Lo stavate aspettando e ora quindi inizieremo a costruirlo Bene allora come vedete qui Io direi di farci tutti i mattoni Intanto ho preso queste 4 stack poi ne ho ancora Dunque vi stavo di Aspettate che aumento un po' i chunk perchè cavolo Grafica chunk 7 Metti a 12 vai 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 Ok perfetto Ok allora Io l'ho già costruito in creativa Però decidere infatti ci ho messo un bel po' a decidere come farlo E nada allora ho deciso farò 4 torri Intorno e poi ne farò Allora devo prendere esattamente le misure Ok eccomi qui Allora quello lì è esattamente il centro Fatto eccezioni Che dovrebbe essere uno anche più in qua Comunque il centro è esattamente Ok questo è esattamente il centro del cerchio Perchè ho dovuto cercarlo perfettamente Perchè purtroppo si facendo 60 di diametro Comunque le torri Io sono cretino Vabbè dietro allora non farò le torri Le farò solamente davanti Con qualche stanza della servitura Roba del genere E poi dietro faremo tutto un bel quadratone gigante Non vi preoccupate verrà una figata incredibile E ora devo salire di quanto Un secondo che vado a vedere nel mondo in creativa Ok raga devo salire esattamente 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 Di 19 Quindi Se riesco vi metto il timelapse I'm Captain Jack Sparrow I'm Captain Jack Sparrow I'm Captain Jack Sparrow Bella a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ci troviamo qui in compagnia di Perfetto Grazie mille per la presentazione E oggi finalmente No in realtà Perchè ho iniziato il video In realtà questa qua è la continuazione di quello Perchè Allora voi dovete sapere Che ho iniziato a registrar ieri Il La precedente clip Bene qui Come vedete da qui Adesso non si mette in mezzo mentre dormo Ho finito di costruire E si ho messo anche delle scale Ora vi mostrerò come sono andato avanti Però siccome sono pigro Oggi mi faccio aiutare da lui per finire Perfetto E non chiedetevi perché Allora come vedete ho messo le scale Le ho costruite completamente Qui ho messo degli scalini in pietra girati Spero Sì 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 Family friendly Comunque Ah Eh che ti vengo a dare Ti vengo a dare i materiali da costruzione Allora io faccio questa qua A sinistra O destra Che vuoi Questa qui dove siamo per la salita Allora vieni qua Tu intanto Tu fai Ah tieni qua ti do mezzo a stacca di questi qui Ti devono servire Tu intanto fai tutto intorno di là Ehm Seguendo esatto perfettamente il contorno Sì Bravo bambino Eh bambini Eh Schiavo scusa Vabbè vuole morire di nuovo Dai Mi hai ridiato i diamanti Ehm Se continui a fare così non te li da Che ti voglio bene Ti voglio come pegno No no grazie Un altro 15 Vieni vieni Guarda come funziona Bello Fermo là Prendi qua No No ma Sei un E gli metti il pezzo di terra là Che adesso devo Che adesso devo parlare per il video Allora Alla prossima volta ti farò più dire davvero Allora adesso dobbiamo salire di qua Di Vabbè di tre blocchi in senso Uno Due Tre Eh Vabbè adesso No aspetta Non mi ricordo più Vado a vederne il mondo Sì E' quello in mezzo Invece di tre Io sono effettivamente Sono anche un po' difficile Ma quali me? Porco due Mi sono incastrato Un secondo solo Solo Ok Vedi che C'è un angolo qui E' come se fossero tre angoli Ah in mezzo Ma perché due attaccati? Due Tre Vediamo No non mettere i sterag Dai Ma è bello Dipende Chi sterag hai messo scusa? Ah Quei sterag dici? Eh No 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 Ma Porca puttana Dai No Ma non posso fare un video in cui non muoio Guarda che mi ha anche fottuto i blocchi quel film Crepa Ti giuro che è l'ultimo No dai l'ultimo Ti giuro Se vuoi Se vuoi mi Ricado No no Non serve che cadi Non buttarti Ti salvo Sì Non ce l'ho morto Ok un livello di esperienza l'ho fatto No la mia esperienza Mia Eh Tre Tre livelli Cioè vuoi mettere Ok ora siamo pari Oh che bello C'ho mezzo cuore Ho già capito io che queste scale non rimarranno Ti giuro che c'hai mezzo cuore? Sì Vediamo No Stai fermo Non ce l'hai mezzo cuore No Aveva mezzo cuore Oddio l'aveva davvero Eh vabbè ma la console dice che Ma la console sto cazzo Oddio guarda che paga si è creato Sto dormendo Oddio No vabbè questo merita tutto il video Faccio la copertina No No che ci crepo Figlio di buonissima zombie Buonissima zombie Crepa No ma guarda il bug che si è creato Ma aspetta sti bug del cazzo Aspetta Questo di te Dai ma me lo potevi dire che avevi in mezzo cuore Ah ma me lo potevi dire ma va Dai qui la tua Nooo 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 La potenza Ah aspetta Ti dono un po' di panini Eh ti dono la potenza della Della mia Aspetta aspetta No Il mio slab Ok Ti dono la Come si dice la Ah la forza vitale Ok Che la forza sia con te Ah mi ha dato tutti Tutti qui Ok grazie Perfetto Torno dopo Vabbè tanto io ho finito Qua devo andare Ok saluto a tutti Bella Ciao E raga eccomi tornato Le ho appena concluse entrambe Perché Dan come avete visto in ultima Che hai dovuto andare via per Fare i suoi E Ho avvantato un bel po' di Ma neanche tantissimi sinceramente Adesso guardate Qui ho finito Cioè qua ne avevo più di una stack Ne avevo raccolta anche con Bombia e tutto Ho raccolto un bel po' di robetta E a quanto vabbè E la riusseremo sicuramente Non vi preoccupate Comunque Ragazzi Questo è il risultato finale Non completamente Perché ho finito La luminite Cioè La glowstone Che sarebbe Questa cosa qui Perché Sì è vero Esteticamente Fuori Non sono ancora finite Vi devo dire già Perché voglio mettere Dei Cracked strong brick Un po' di cobri Stiamo ogni tanto per variare Per non mettere tutto uguale Cosa che devo fare anche sulle mura Ma ci arriveremo pian piano E lì sopra voglio metterci Due glowstone lamp Redstone Non glowstone Due redstone lamp O c'è anche lo spazio per le levi Non vi preoccupate Vi mostrerò Quando le metterò Però Non Non ho la glowstone E non voglio stare qui Altri miliardi di anni Nel far tutto Perché Ci ho già messo tanto E nel Nel far tutto ciò Sono partito con Una cosa come 21 livelli Bene Guardate quanti ne ho adesso Esattamente 8 Perché Dovete sapere Che Off camera Io e Dan Ci siamo divertiti A fare un po' Di pvp Bene E' finita con 4-5 morti da parte sua E 4-5 morti da parte mia Robbe Che non dovrebbero essere normali Perché è un server vanilla E qui i livelli Ce li giochiamo veramente Ma noi siccome siamo A cab L'abbiamo fatto lo stesso Però io le frecce Dove le devo buttare Adesso che ci penso Va bene Le devo buttare qui Perfetto Allora raga Io vi chiedo di lasciare like Iscrivetevi Se siete nuovi Che è una cosa Tanto bella e importante Soprattutto perché Ultimamente le feed di youtube Non partono E questa è una cosa Che mi fa molto arrabbiare Però che volete Youtube è il padrone E youtube decide Per il resto Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Se siete nuovi Commentate Condividete Noi ci vediamo In un prossimo video Bella